ma come andavo a scuola? una merda, andiamo? no no no, non lo ha detto, mago ledit! PARCA DIA! Mi faccio cagare Dovevo farmelo Dovevo manovere Sta lento, sta lento Nice Sopra venga qua Occhi dietro Ma porco dia Porco 112 Ah italiani Abbiamo gente qua davanti a sud Occhio a questo Mi sento molto più tranquillo vai Jump qualcosa Per spostarci WTF Mi sento molto più tranquillo Mi sento molto più tranquillo Ma cazzo Ma perché Ma perché Ma perché Ma come cazzo è possibile Come cazzo è possibile Signore Sparco Non ho capito perché il terzo non è entrato Dai faccio cagare raga Io non ho parole Mamma mia... I've made a huge mistake No no, non mi ha mandato l'odore di marda del cane Prima di andare ragazzo Dai amo! Anche perchè io profumo, senti? Molto profumato Togli quel ping please? No aspetta lo toglie io, è mio, è mio Dai mi ha mandato qua l'odore di culo del cane figa Voglio dire che il tuo cane scorreggia come te Eh vabbè ho capito siamo persone siamo esseri viventi scorreggiamo scusami Anche tu scorreggi di notte Che se ti registrassi figa il concerto di capodanno lo chiuderebbero Cazzo tipo...